Quasi a ridosso dell'ingresso della sede principale della Biennale d'Arte Contemporanea di Venezia, un'esposizione che nell'ultima edizione ha sfiorato i 600.000 visitatori, da giorni centinaia di uomini stanno allestendo lungo Riva Settemartiri e i giardini napoleonici decine di stand che nel fine settimana ospiteranno altre decine di migliaia di persone, esattamente negli stessi giorni in cui a qualche centinaio di metri si tiene la festa de San Piero de Castello, una delle più partecipate a Venezia. Ci sarà una valanga di gente che arriva di qua, che arriva di là e quindi dopo qui non ci si muove più. In città la polemica è accesissima, soprattutto da parte di chi vive in quest'area di Castello, dove c'è anche chi sta pensando di adire le vie legali. Nessuno è contro il villaggio della Col di Retti, ma il luogo non è reputato idoneo ad ospitare un evento del genere. Magari se venivamo avvisati che ci sarebbe stato un grosso evento, siamo trovati ingabbiati dall'oggi al domani senza sapere né perché né per come. Alla mattina ci siamo alzati e abbiamo visto una serie di bagni chimici, mio marito ha chiamato i vigili, i vigili non sappiamo cosa fare, fortunatamente mezz'ora fa hanno tolto questi bagni, ma avevamo una puzza tremenda. Devono ancora arrivare tutti gli animali, non so dove li metteranno gli animali, non so dove faranno i suoi bisogni, le loro abitudini, noi qua non abbiamo niente, è tutto un altro mondo. Tanto delicata Venezia, tanto è vero, lo dicono tutti, noi che siamo veneziani, e non doveva fare quello che hanno fatto qui. Chi non si dà per vinta tra i residenti è Maria Giorgina Ungarato, che all'alba dei 101 anni non rinuncia alla sua passeggiata ai giardini, nonostante in questi giorni per lei sia diventata un percorso a ostacoli. Com'è che si arriva così bene a 101 anni? Mangiando bene e pagando poco. Non tutti sono coraggiosi come Maria Giorgina. Secondo un recente studio dell'Università di Ca' Foscari, il 7% dei residenti superstiti fugge da Venezia durante i cosiddetti grandi eventi, quando la città è presa d'assalto e persino salire su un vaporetto può diventare un'impresa. Chi ha dato queste autorizzazioni, ha un nome, ha un cognome, ci sono delle firme, non ha tenuto conto delle criticità della città e del luogo in cui viviamo.